Sportello del cittadino riservato allo sportello universo donna eccoci con Gianna Cavallo responsabile del settore pari opportunità e servizi sociali dell'associazione Stella Maris che ha dato vita allo sportello universo donna il suo augurio per questo 2016 beh usciamo dal 2015 un anno difficile per la realtà ionica sì speriamo che sia realmente l'anno poi del riscatto per tutta la città di Taranto ma per tutto il territorio provinciale l'augurio va da parte dello sportello universo donna ma da parte di tutto il direttivo dell'associazione Stella Maris e quindi parlo a nome realmente di tutte e tutte le amiche che fanno parte dell'associazione a tutta la popolazione a tutta la cittadinanza ma va soprattutto a determinate istituzioni alle forze dell'ordine che sono sempre in prima linea si sacrificano certo si sacrificano per la sicurezza ma soprattutto proprio nell'ambito della della violenza del contrasto la violenza sulle donne sono proprio il primo fronte il primo contatto con le situazioni gravi di richieste d'aiuto poi l'augurio va anche a tutte quelle associazioni che con volontariato sono presenti sul territorio e che spesso vanno a ottemperare quelli che sono i compiti o gli obblighi delle istituzioni spesso assenti spero che il 2016 sia invece un anno veramente l'anno della rivalsa l'anno del riscatto noi stiamo anche proponendo tutta una serie di progetti affinché possiamo far arrivare convogliare sul territorio finanziamenti dalla regione o dalla comunità europea che ci possano consentire di dare anche delle risposte concrete al territorio buon 2016 a tutti davvero un caloroso abbraccio grazie a tutti